Questa è bianca come il latte e rossa come il sangue, una fiaba d'Italo Calvino. C'era una volta, in un regno lontano, un castello. Circondato dalle colline, il castello era una perla bianchissima nascosta nel verde. Da quel punto il re governava su tutto il suo popolo e non vedeva l'ora che il figlio prendesse moglie e governasse dopo di lui. Il principe, però, non era innamorato. Ogni settimana decine di dame e principesse fiumavano al castello sperando di essere scelte per sposarlo. E lui era solo annoiato. Non aveva il cuore di dire che le trovava brutte o antipatiche o che proprio non le voleva. E quindi, con gentilezza, declinava ogni proposta senza spiegazioni. Ogni principessa arrivava a palazzo con un dono diverso. Un giorno arrivò una principessa di un regno lontano e anche lei aveva un dono. Portò la ricotta più bianca che le vacche avessero mai prodotto, lavorata con le mani più abili del regno. Propose al principe di assaggiarla fresca, ma, come ogni principe, aveva i suoi assaggiatori reali. Subito corsero mille inservienti pronti ad assaggiarla al posto suo. Ma che figura avrebbe fatto se non si fosse fidato di lei? Così, decisi di assaggiarla per primo e di tagliarla da solo. Tutta la sala tratteneva il fiato. Il principe, lentamente, stava tagliando una fetta. Qualcuno in sala aveva il terrore che fosse avvelenata e qualcuno già vi sbigliava sul fatto che donare una ricotta a un principe fosse un po' da poveri. Poi il principe gridò, si era tagliato accidentalmente, il taglio non era molto grave, ma mezzo castello corse a salvare il principe, come se fosse una ferita di guerra. Principe, principe, principe! E mentre tutti correvano a prendere acqua e garze, e mentre la principessa chiedeva umilmente perdono, il principe fissava il suo dito. E una goccia di sangue rosso scivolare. E cadere sulla ricotta bianca come il latte. Tutti zitti si erano come pietrificati, vedendo il principe immobile. Aspettavano un ordine, una parola, qualcosa! Ma una luce si era accesa nei suoi occhi. E disse sottovoce che la donna che voleva doveva essere bianca come il latte, ma rossa come il sangue. E così diede un ballo. Tutte le donzelle del regno erano invitate, il principe cercava moglie e finalmente sapeva che cosa volesse. Una donna rossa come il sangue e bianca come il latte. Al ballo sfoggiarono i vestiti più belli. Gonne a balze, rosse e bianche, vestiti di neve per capelli scarlatti, ciocche di ricci biondissimi su un abito rosso-vermiglio. Il trucco, le scarpe, le gote, l'acconciatore, ogni rossetto era rosso e ogni viso era pallido. Le donne facevano a gara e litigavano per avere l'amore del principe. E lui si muoveva per la sala, fra vestiti leggeri e gonne ingombranti. E più donne entravano e più donne non erano ciò che il principe cercava. Rossa come il sangue e bianca come il latte. Tutte combaciavano con la descrizione, ma nessuna di queste era ciò che il principe desiderava. La regina insisteva che questa o quella principessa fosse un buon partito. E il re parlava di come quella principessa fosse più rosso o più bianca delle altre. Ma il principe ormai aveva già lasciato il ballo. Partì da solo, senza scorta, in cerca di una donna bianca come il latte e rossa come il sangue. E non sapeva che cercasse, ma era sicuro che questa fosse la cosa che più desiderava. Attraversò pianure, deserti, foreste, montagne e in ogni villaggio si fermava in cerca di qualcuna che fosse quella giusta. Un giorno, in un villaggio isolato, il giovane principe incontrò un vecchio signore. L'anziano diceva di sapere dove trovare una donna bianca come il latte e rossa come il sangue e diede tre melagrane al ragazzo. Va, in piazza, al centro troverai una fontana. Apri una melagrana e avrai ciò che cerchi. E così diede le tre melagrane al principe e poi sparì. E il giovane corse alla piazza, al centro, alla fontana, sotto un albero. Preso una melagrana e l'apri in due. Una luce accecante. E ne uscì una ragazza giovane. Restò a bocca aperta. Era la donna più bella che avesse mai visto. La pelle bianca e candida era del colore del latte. E i capelli rossi erano una cascata di ciocche mosse dai riflessi dorati che scendevano fino alle ginocchia. E mentre il principe la fissava dritto negli occhi, lei si limitò a dire, con un filo di voce, Ho sete! E il principe mise le mani a coppetta, le infilò nella fontana e puff! La ragazza era morta. E il corpo lentamente spariva in una nuvola di cenere. Il principe prese subito una seconda melagrana e in fretta la aprì. Prima che ci fosse il tempo di parlare, il principe le buttò addosso tutta l'acqua che poteva, ma non fece in tempo a bagnarla che anche lei morì. E sparì. Prese la terza melagrana, entrò vestito nella fontana, si abbassò e sott'acqua aprì la melagrana. Ne uscì la stessa giovane dalla pelle bianca come il latte e i capelli rossi come il sangue. Si alzò, nuda, uscendo dall'acqua confusa e spesata. E guardò il principe bagnato come un uccellino. Che strano pesce sembrava. La ragazza si mise a ridere e il principe, vedendosi riflesso nell'acqua, rise con lei. Io sono il principe di questo regno e ti ho cercata per molto tempo. Prometto che se lo vorrai io ti sposerò e vivrai con me a palazzo. E la prima domanda della ragazza fu, che cos'è un palazzo? E il principe glielo raccontò. E poi chiese che cos'è un principe. E poi un regno. E poi la fontana, la piazza, gli alberi, il sole. E più lui raccontava, più lei era sbalordita da questo mondo magico che la circondava. Lui parlò dei doni delle principesse e di come non sapesse che cosa volessi fino un attimo prima. Dei balli, del vecchio, delle tre melagrane. E dopo aver parlato e riso a lungo, il vento iniziò a soffiare. Ho freddo, disse la ragazza. E subito il principe la coprì con il suo mantello. Resta qui, le disse. Ti porterò a palazzo e vivremo felici. Andrò a cercare una carrozza e delle scarpe e dei vestiti. E poi la aiutò a nascondersi sull'albero che stava sopra la fontana. Il principe andò e la ragazza restò nascosta fra i rami. Per la fanciulla era tutto nuovo. E così guardava il fornaio passare, il piscivendolo e il sarto. Poi alla fontana arrivò la brutta sarracina. Era una donna vecchia, grassa e bassa. E portava con sé una cesta di panni sporchi. Brontolando sottovoce mille maledizioni contro chissà chi. Brontolava tanto che la fanciulla sull'albero si allungò per vederla meglio. E la brutta sarracina, pronta a lavare i panni, vide un volto riflesso che non era il suo e si spaventò. Non ci vedeva più tanto bene, quindi controllò di nuovo. Non capiva se l'acqua mentisse o se fosse diventata più bella. Così iniziò a gongolarsi tutta felice, credendo che la faccia fosse sua. La fanciulla si mise a ridere e la sarracina guardò in alto. E così vide la bella ragazza nuda che stava sull'albero nascosta. Si infuriò. Vieni giù, le gridava. Vieni giù, maleducata. E la minacciava di colpirla col battipanni. Dispiaciuta, la fanciulla nuda scese dall'albero. Chiese scusa, non voleva offenderla. Lei era nata oggi e aveva con sé il mantello del principe che sarebbe tornato a prenderla con la carrozza e i vestiti e le scarpe. La brutta sarracina la perdonò, ma le disse di voltarsi perché l'avrebbe pettinata e acconciata per fare una sorpresa al principe. La fanciulla tutta felice si voltò. Si fece pettinare e la brutta sarracina la strangolò e la uccise. Il corpo si trasformò in cenere e in una piuma bianca. Poi la sarracina si spogliò, si mise il mantello del principe e si mise ad aspettare nascosta sull'albero. Quando il principe arrivò, lei disse che il vento l'aveva seccata, imbruttita, imbronciata, ma che era ancora lei la ragazza della melagrana. Così venne portata a palazzo. Il principe aveva capito che la ragazza che amava era cambiata, ma sperava che tornasse come prima. La brutta sarracina si è detta così al fianco del principe e mangiò alla sua tavola e nelle sue stanze e nella regalità. I servi la odiavano perché ordinava e pretendeva e ordinava tutto il giorno. E parlavano fra loro di come non fosse bianca come il latte né rossa come il sangue. Anche i cuochi la odiavano perché ordinava tanto cibo a tutte le ore che non sapevano più che fare. Si lagnavano tutto il giorno parlando di come la sarracina non li degnasse mai di un ringraziamento e di come lavorassero pure di notte per tutto quello che mangiava. Una colomba bianchissima, interessata alla conversazione, si avvicinò alla finestra della cucina. Da settimane era ormai diventata una compagna fissa dei cuochi. Non la cacciavano perché tutte le volte che le davano da mangiare, lei, volando via, perdeva due piume d'oro zecchino. Poi, la notte, dormiva sul davanzale e si svegliava quando i cuochi iniziavano a lamentarsi della sarracina che già iniziava ad ordinare. I cuochi iniziarono a fare a gara per dare da mangiare alla colomba e mettere da parte un gruzzoletto finché la voce non si sparse. Prima un maggiordomo, poi una guardia, poi una serva, tutti quanti volevano due piume. Poi la brutta sarracina venne a sapere della colomba e, sospettando che c'entrasse qualcosa, scese di nascosto in piena notte e, mentre la colomba dormiva, la uccise e la sotterrò al centro del giardino del re. Quando la mattina dopo si svegliarono, i cuochi non trovarono più la colombella. Avevano le lacrime e gli occhi. Penne d'oro o meno, la colombella faceva loro compagnia da molto, molto tempo ormai. E la sarracina diventava sempre più impertinente e crudele. Così impertinente e così crudele che decisero di avvelenarla. I cuochi si organizzarono tutti insieme e una mattina la sarracina si svegliò con un forte mal di stomaco, venuto dal nulla ovviamente. Il principe chiamò il medico di corte che capì subito che era stata avvelenata. E lui, il buon principe, non andò a cercare un responsabile, ma cercò piuttosto una soluzione. Ma per il medico non c'era antidoto, sarebbe morta in poche ore. Il principe era terrorizzato, ma vide che al centro del giardino era apparso un albero di melegrane. Scese subito le scale e prese un frutto dall'albero apparso dal nulla e lo portò alla sarracina. Se sei uscito da una melegrana, forse una melegrana ti potrà curare. E la sarracina, con la paura di morire, mangiò il frutto tutto quanto in fretta, quasi ingozzandosi. E guarì. I frutti dell'albero delle melegrane potevano curare da qualsiasi male. Così, la notte, la brutta sarracina scese in giardino di nascosto in cerca della colomba. Ma c'era solo un gigantesco albero senza foglie, con tante melegrane rosse come il sangue. Prese la melagrana più grossa e la nascose in camera sua per tenerla per sé. Il principe, invece, decise di rendere pubblica la notizia. I frutti erano a disposizione del popolo, bastava farne richiesta e lui avrebbe donato una melagrana a tutti coloro che ne avevano più bisogno. Curava le malattie, le ferite, la tristezza e il crepacuore. Ogni giorno, una persona con la sua storia veniva a elemosinare una melagrana. La sarracina sbuffava spazientita, ma il principe accoglieva tutti quanti e li ascoltava uno ad uno. Tutti quanti quelli che ne volevano una. Salvò mamme e bambini, giovani e vecchi, dando una melagrana a ogni persona. Un giorno, una signora anziana e gentile arrivò disperata al palazzo del re. Chiedeva umilmente al principe di poter avere una melagrana perché l'uomo che aveva amato e sposato stava morendo. Implorava il principe di avere un'opportunità perché lei amava suo marito più di qualsiasi altra cosa al mondo. Non avevano avuto bambini, anche se ne avevano voluti, e ora a lei non restava altro che lui. Ma le melagrane erano finite. Sull'albero non era rimasta più nemmeno una. Così il principe salì nelle stanze reali e prese quella della brutta sarracina, quella che lei teneva nascosta per sé. È mia, dammela, serve a me! E strattonava il principe perché non voleva perdere anche l'ultima rimasta. Il principe era deciso più che mai e portò la melagrana all'anziana signora. Salvi il suo amato perché non abbiamo che l'amore in questo mondo. E mentre augurava tutta la fortuna alla vecchietta, la sarracina brontolava sottovoce. L'anziana corsa a casa del marito con la sua bella melagrana, la più grande di tutte. Sapeva che il principe era una persona buona e non vedeva l'ora di tornare a palazzo con il marito per ringraziarlo di cuore. Quando arrivò a casa, corsa al capezzale, dal marito sdraiato nel letto, che però non respirava più. Lui era morto e la vecchietta era rimasta tutta sola. Così lei lasciò la melagrana su una mensola in casa e iniziò il suo lotto. Non uscì di casa per qualche giorno dopo il funerale. Non aveva la forza di fare nulla che fosse pulire o cucinare. Voleva solo lasciarsi morire. Poi arrivò una domenica e andò a messa per pregare per l'anima del suo amato. Tornata dalla chiesa, trovò la casa pulita e il pranzo già pronto. Pensò alla cortesia di un vicino di casa, ma nessuno di loro diceva di averle pulito o fatto da mangiare. Così, la domenica successiva, quando tornò da messa e trovò di nuovo la casa pulita, iniziò a preoccuparsi. Pensando che Satana in persona avesse infestato la casa, iniziò ad andare a messa tutte le mattine e tutte le volte che tornava a casa, la casa era pulita e il cibo era pronto per lei. Dopo qualche giorno decise di parlarne col parroco. Era un fantasma? Lo spirito del marito? Era il demonio? Il parroco del paese non sapeva a che pensare e consigliò alla vecchietta di fare mille riti e preghiera a casa sua, ma nulla funzionò. Allora il parroco le disse di fingere di uscire di casa e poi nascondersi. La vecchietta così fece, uscì al solito orario per poi nascondersi fuori di casa e sbirciare dalla finestra. I passanti pensarono che la vecchia fosse impazzita dal tutto, ma matta o no? Restava a fissare dalla finestra tutto quello che succedeva in casa. I passanti pensarono che la vecchia fosse impazzita dal tutto, ma matta o no? Restava a fissare dalla finestra tutto quello che succedeva in casa. Dopo un po', dalla melagrana, quella sulla mensola, uscì una bellissima ragazza nuda. Era bianca come il latte, ma rossa come il sangue. La vecchietta rimasa affascinata mentre la giovane puliva la casa con cuore e preparava da mangiare. Così la signora decise di entrare di colpo dalla porta e la ragazza spaventata si mise a piangere e implorare «Non mi uccida, non mi uccida, la prego!» Ma la vecchietta voleva solo ringraziarla. Così l'anziana signora la vestì e l'accolse in casa. La vecchietta raccontava le storie di suo marito, del loro amore, e la ragazza ascoltava affascinata. Le insegnò tutto quello che sapeva del mondo e la portava con sé a messa ogni domenica. Poi, un giorno, il re morì. Il principe era devastato, ma doveva salire al trono. E così tutti i nobili e le principesse furono invitati al suo matrimonio. Il principe sposava la brutta Sarracina. La chiesa era piena di fedeli e tutti coloro a cui era stata donata una melagrana erano invitati. E questo significava un sacco di persone, di ogni ceto sociale e di ogni età. Anche la vecchietta era stata invitata e così anche la fanciulla della melagrana, che però piangeva disperata perché ricordava la promessa del principe, ma sapeva che ora lui voleva sposare un'altra, la brutta Sarracina. Le lavandaie avevano riconosciuto la loro collega e si chiedevano che cosa il principe avesse visto in una donna così vecchia e brutta. La Sarracina, invece, era tutta felice e si gongolava pensando al trono e alla vita della regina. E mentre la gente entrava in chiesa, la fanciulla, bianca come il latte e rossa come il sangue, riconobbe i cuochi della cucina di corte. Ricordava i loro nomi e li salutava uno ad uno. I cuochi apprezzarono la gentilezza della bella ragazza, ma, ovviamente, non pensarono che potesse essere la colombella. La fanciulla conosceva i nomi anche del parroco e lo salutò del fornaio, del sarto e di tutti coloro che aveva conosciuto vivendo con la vecchietta. Così iniziò un brusio, perché sottovoce c'era chi chiedesse chi fosse la bella fanciulla che piangeva, chi chiedesse perché stesse piangendo. Ma anche le lavandaie stavano parlando della Sarracina sottovoce e alla fine, durante il matrimonio, di silenzio proprio non ce n'era. E la Sarracina, infastidita, lanciava occhiate d'ardeggianti come una lucertola fulminando uno ad uno tutti quelli che parlavano. Il brusio disturbava il matrimonio e non finiva mai. Il principe allora chiese di che cosa si stesse parlando. Tutti risposero insieme, parlando di una ragazza. «Conosci i nostri nomi!» dicevano i cuochi. «S'inghiozza da ore!» diceva qualcun altro. «È la figlia della vedova!» Ma poco si capiva, visto che parlavano tutti quanti uno sopra l'altro. Fu la brutta Sarracina a dire «Se disturba tanto il mio matrimonio, che si faccia avanti questa fanciulla fastidiosa!» E la faccia della Sarracina parlò per lei quando vide una ragazza bianca come il latte, rossa come il sangue, farsi avanti tutta timida. Il principe scese dall'altare e chiese alla fanciulla «Ma chi sei tu?» «La prego, non mi uccida! Io sono la fanciulla nata della melagrana!» «Ma la lavandaia mi ingannò e mi uccise!» E le lavandaie tutte insieme inizierono a gridare «La Sarracina! Allora è davvero lei! È la brutta Sarracina!» E la Sarracina iniziò a gridare «Sono io la fanciulla della melagrana! E non ce ne sono altre!» Ma la fanciulla non si fermava. Tornai come colomba e ascoltai qualche parlare, ma la Sarracina mi uccise di nuovo e divenne un albero. «Non è vero, bugiarda! Che storia assurda! Arrestatela per queste offese!» Ma le guardie non si muovevano. «Arrestatela, ho detto! Uccidetela!» Ma il brusio era più forte di prima. «La Sarracina! La conosco! È lei! È la brutta Sarracina!» Il principe, con le lacrime e gli occhi, corse dalla fanciulla bianca come il latte e rossa come il sangue. La abbracciò, la baciò e decise di sposarla seduta stante. La Sarracina cercò di scappare dalla chiesa, cercò di fuggire da una porta e poi dall'altra, ma ovunque il popolo l'aveva fermata e non la lasciava scappare. L'intero popolo esultò e la principessa si dimostrò buona e giusta, anche più del principe. Furono una regina e un re molto amati e permisero all'anziana signora di vivere a palazzo e vissero per sempre felici e contenti. Per quanto riguarda la brutta Sarracina, il principe era in dubbio sul da farsi e così, come ultimo ordine, la brutta Sarracina decise di condannarsi a morte da sola. Questa è una bellissima, antichissima fiabe italiana, proveniente probabilmente dalla Puglia o dall'Abruzzo. E è adorabile. Vi ricordo che gli italiani hanno praticamente inventato le fiabe. E volevo raccontarvela perché mi ha colpito particolarmente quando l'ho letta. È magnifica, semplicemente magnifica. Grazie. Grazie.